ciao ragazzi bentornati sul canale quello che vi mostrerò oggi è la mia nuova mod pro versione con paddle large che sarebbe questa ve la faccio vedere già già montata questo è l'effetto finale questa mod si differenzia da quella precedente perché oltre ad avere diciamo la mod normale magnetica anche i paddle large quindi più grandi rispetto agli originali che sono questi che vanno costituiti questi qui sono state tolte molto semplice montarla basta togliere quelle originali montare questo supporto di questa parte di sotto dopodiché si monta questa qui di sopra e si fa combaciare le calamite le palette sono regolabili non so se si riesce a vedere da qui hanno un centimetro e metri di escursione verso l'interno verso l'esterno quindi più larghe ovviamente la presa è molto più comoda rispetto a quelle originali più ampia questo è lo scattino che fa per la calamita quindi molto precisa fluida perché allo stesso livello della della cambiante non è già l'arco di che fa leva ma quindi è diretta molto precisa quindi non potete più perdere le marce o non accorti di se entrano due volte rapido secco e più resistente perché ci sono le calamite questo è l'effetto finale ovviamente sempre curata dei mini particolari rivestite in carbonio lucido e i feedback sono molti positivi da chi l'ha già provata bene questo per oggi è tutto al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale alla prossima